Come calcolare i macronutrienti per la dieta chetogenica, quello di cui parleremo in questo nuovo video. E quindi benvenuto in questo nuovo video. So che negli ultimi giorni non ho pubblicato nessun video, ma mi sono dedicato completamente alla programmazione di questo chetocalcolatore che ho messo sul nostro KetoFood.it. Infatti da bravo nerd l'ho fatto tutto io, sono quindi molto orgoglioso di raccontarti, di spiegarti come si utilizza, perché è davvero molto semplice. Innanzitutto ci tengo a precisare che ovviamente è un calcolatore per dieta chetogenica, ma che uno può modificare i dati a proprio piacimento per ottenere i macronutrienti di quello che vuole fare nel modo più personalizzato possibile. E ci tengo anche a fare una premessa doverosa, ovvero non è un calcolatore che serve per, che ha l'obiettivo di farti poi contare le calorie. È un calcolatore che serve per ottenere i macronutrienti e sui macronutrienti lavoreremo per i nostri pasti, quindi con delle guide pratiche e tutto. Perché dico questo? Perché come ho già detto tante volte, non è contare le calorie la cosa utile per ottenere il proprio obiettivo. Le calorie servono veramente a poco. Sono una cosa che va avanti da decenni, che ci insegnano il motto, mangia di meno e muoviti di più, ma non ha mai funzionato. Ci sarà un motivo. La qualità di ciò che mangi fa la differenza. Il punto non è mangiare meno e poco le cose sbagliate, il punto, la chiave per ottenere i risultati, è mangiare a sazietà le cose giuste. Non sto dicendo che le calorie non esistono, le calorie ci sono dentro un alimento. Ma il cibo che mangiamo dice al nostro corpo come utilizzare queste calorie. Quindi se il cibo di qualità gli dice delle cose buone per la nostra salute, per il nostro obiettivo, se il cibo è di scarsa qualità, gli dice delle cose cattive. Quindi ingrassiamo, non siamo in salute, siamo fuori forma. 1000 calorie di Coca-Cola o patatene fritte non dicono al nostro corpo la stessa cosa di 1000 calorie di verdura, di carne grass fed, di uova da pascolo e di grassi sani. Questo deve essere chiaro. Ovviamente non sono qui per convincere nessuno, non c'è nessun problema, ma se noi andiamo ad ascoltare tutti i topi esperti al mondo, sono 10 anni che spiegano questa cosa. Le calorie sono un'incredibile semplificazione dell'uomo e non è così che funziona il nostro corpo. Ora siamo pronti per iniziare. Quindi io prendo il cellulare, questo è il cellulare dell'Elli, perché il mio lo sto utilizzando per girare questo video, e ti faccio vedere come funziona questo calcolatore. Allora andiamo su ketofood.it, ovviamente, apriamo il menu e andiamo su Keto Calcolatore. Ovviamente si apre immediatamente la pagina per calcolare i propri macronutrienti. Qui all'inizio ti spiego molto semplicemente che cosa devi fare e che cosa ci dovremmo fare. Inserire dei dati, seguendo eventualmente le indicazioni che diamo, giusto per guidarti un pochino nell'inserimento dei dati, come adesso vedremo. Schiacciare un bottone, si ottengono immediatamente i risultati, dopodiché, se si vuole, si può inserire l'email e iscriversi a questa lista. Che cosa succede? Immediatamente ci si iscrive a questa lista per fare che cosa? Per ricevere delle guide pratiche su carboidrati, grassi, proteine, che dopo ti farò vedere qualcosa. D'accordo? Quindi si ottengono un sacco di regali super fighi e super utili. Allora, iniziamo. Io faccio esattamente quello che è la mia situazione attuale, ok? Quindi all'inizio vediamo che c'è da scegliere il sesso, quindi uomo o donna. È importante perché cambia un pochino la formula per il conteggio, poi dopo, dei macronutrienti. Quindi ovviamente io sono un uomo, se fossi una donna sceglierei donna, ok? Età. Io ho 34 anni e quindi lo vado ad inserire. Altezza in centimetri, io sono alto 1,76 in centimetri, ok? Non in metri, in centimetri. Peso in chilogrammi, peso 77 chili, ok? Quindi inserisco questo. E arriviamo ad un punto che può creare un pochino di problemi a qualcuno. Percentuale di massa magra. Allora, la percentuale di massa magra in genere la otteniamo, la conosciamo nel modo più domestico possibile, come? Grazie alla bilancia impedenza metrico. Ovvero quella bilancia che ti restituisce direttamente il valore della massa grassa. Ovviamente, non tutti quanti abbiamo una bilancia impedenziometrica, d'accordo? Quindi come si fa in quel caso? Allora, se conosciamo il valore, ottimo. Se abbiamo fatto una visita, magari da nostro nutrizionista, dietista, o qualsiasi altra cosa e conosciamo il valore, ottimo. Se non conosciamo il valore, è molto semplice. Qui sotto, come puoi vedere, c'è una tabella per gli uomini e una tabella per le donne, dove ci sono delle foto che vengono utilizzate proprio a livello standard, dove noi cerchiamo di immedesimarci, in modo soggettivo, mi raccomando, obiettivo, volevo dire, per cercare di identificare più o meno quella che è la nostra percentuale di massa grassa. Quindi, se sono un uomo, cerco di guardare le foto e cerco di stabilire un numero, se sono una donna, farò esattamente la stessa cosa. Non è importante che sia precisa, perfetta, al punto percentuale. Se è 11 o se è 13, non è che cambia tantissimo, d'accordo? Cerchiamo di fare una cosa nel miglior modo possibile. Quindi cerchiamo di individuare il nostro numero e lo andiamo a segnare lì dentro. Io attualmente ho 11% di massa grassa, ok? Poi dopo ci chiede, c'è lo schemino, la tabella che ci dice quanto sei attivo. Se siamo sedentari, non facciamo niente. Se siamo attivi, facciamo allenamento, facciamo un lavoro che ci tiene in piedi sempre, ad esempio, che ne so, magazziniere, cameriere, d'accordo? Sono tutti i lavori che ci tengono molto impegnati. Apriamo il menu a tendina e andiamo a selezionare, d'accordo, quello che è la nostra attività settimanale. Ad esempio, io faccio esercizio 4-5 volte a settimana, ok? In modo molto intenso, quindi vado a selezionare l'ultima tabellina. Arriviamo a questo punto nella parte carboidrati e proteine, ok? Nella parte carboidrati e proteine è un pochino la parte più importante, dove dobbiamo andare a selezionare quelli che sono i carboidrati e quelli che sono le proteine per andare poi dopo a tenere i nostri macronutrienti nel totale e ovviamente il nostro fabbisogno calorico giornaliero. Qui abbiamo messo uno schemino, ovvero se vuoi fare una cheto ristretta, il consiglio in genere, non chiediamo noi, in genere è quello di inserire 20 grammi di carboidrati netti. La chetogenica standard, che è comunque l'obiettivo per dimagrire, ti dice inserisci un valore che va dai 20 ai 50 grammi di carboidrati netti, non di più. E questo in genere è quello che si fa, in generale, proprio nella dieta chetogenica, è quello che faccio anch'io, d'accordo? Poi abbiamo la cheto libera, che può essere dai 50 ai 100 grammi di carboidrati netti al giorno. E questo in genere lo può fare un atleta, ma questo può essere adatto anche ad esempio per una donna che con la cheto standard non ottiene grandi risultati, quindi diventa molto soggettivo. Ma la soggettività non ci deve mandare in parico, ci deve semplicemente far prendere consapevolezza. Ho provato una cosa per un tempo sufficientemente lungo che non mi ha portato grandi risultati, calma, calma, comunque tutto quello che ho fatto mi ha fatto del bene alla salute, cerco di provare un'altra cosa differente. È molto semplice. Ok? Qui mettiamo anche il giorno di ricarica dei carboidrati, perché ad esempio il calcolatore può essere utilizzato anche per calcolare il singolo giorno della settimana in cui andiamo a fare la ricarica dei carboidrati, dove generalmente si va a raggiungere una quota di 100-150 grammi di carboidrati netti al giorno, carboidrati che derivano sempre da alimenti sani, non dalla pizza, dalle patatine, dalla pasta, dal pane, mi raccomando. Parliamo quindi di patate dolci, della zucca, magari riso bianco basmati lasciati in frigo la notte in modo da aumentare il contenuto di amido resistente e vi diciano tutte queste indicazioni, ve le daremo nelle guide a pratica che riceverete per email. Ok? Quindi, noi qui lasciamo già preimpostato un valore di 30 grammi. Perché? Perché, insomma, in generale è un valore che può andare bene quasi per chiunque. Se uno lo vuole personalizzare, ad esempio dice no, io voglio mettere 50 grammi, inoltre semplicemente va a scrivere 50, ok? Io lascio 30 grammi e proseguiamo. Arriviamo ai grammi di proteine per peso. Stesso discorso, ma ancora un pochino più complicato. Perché? Perché se noi andiamo a prendere i 10 top esperti al mondo e guardiamo cosa dicono il fatto di grammi di proteine per mantenimento, per dimagrimento e per crescita muscolare, non ce n'è uno che dice la stessa cosa. Dicono cose simili, ma nessuno dice la stessa cosa. Questo non ci deve allarmare, deve farci capire che se invece di 1.5 grammi di proteine noi utilizziamo 1.7 o 1.3, non è che moriamo, succede niente, d'accordo? Quindi anche qui buon senso. E anche in questo caso noi vi lasciamo preimpostato un valore di 1.5 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo, che generalmente è un parametro che può andare bene per tutti gli obiettivi. Potrebbe essere un po' diverso, certo, sto dicendo, è un parametro che può andare bene. Quindi se uno non sa cosa fare, lascia questo e più o meno va bene. Se uno invece sa cosa fare, va a inserire il suo numerino lì dentro, quindi vuoi fare 2 grammi di carboidrati netti di grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo, vai a scrivere 2, ok? Io lascio 1.5. Molto semplice, siamo già arrivati in fondo, c'è un bel pulsantone, calcola i tuoi macro, lo andiamo a schiacciare e questo ci restituisce quello che noi dovremmo all'incirca fare nella nostra giornata, ok? Quindi 116 grammi di proteine da dividere per i pasti che facciamo nella giornata, possono essere 2, 3, 4. Consiglio, non ascoltiamo quello che si è sempre detto di fare 5-6 pasti nella giornata, perché non è la cosa ideale. Dopo ognuno, come sempre, ovviamente, fa quello che vuole. Il consiglio è 2 pasti principali e uno spuntino nel pomeriggio, 3 pasti, d'accordo? Non andiamo a fare 5 pasti perché si creano altri problemi che non sto a spiegare in questo video. Poi abbiamo ovviamente la quota di carboidrati che abbiamo selezionato noi in precedenza, quindi se avessimo messo 50 grammi, qui ci sarebbe 50, e invece abbiamo 30. E arriviamo al numero che ci interessa di più, come vedete un numero molto alto, 295 grammi al giorno di grassi sani. Attenzione, i grassi nella dieta chetogenica vengono sempre tenuti come macronutriente finale. Perché? Perché a partire dai carboidrati netti, a partire dalle proteine per quello che è il mio obiettivo, la parte restante viene dedicata ai grassi. I grassi nella dieta chetogenica fungono da riempimento del serbatoio. Quindi se il nostro fabbisogno calorico, lo pensiamo come ad un serbatoio, prima nel serbatoio ci mettiamo i carboidrati, poi ci mettiamo le proteine, poi dopo andiamo a riempire la parte restante con i grassi. Apro e chiudo una parentesi. Non sforziamoci a mangiare di più perché dobbiamo raggiungere quella cosa lì. Questo è un consiglio che do io, ma ognuno fa quello che vuole. Io non è che se devo raggiungere 295 grammi di grassi mi abbuffo e sto male perché devo arrivare lì. Io i grassi li utilizzo, nel vero senso della parola, come riempimento. Quando sono sazio mi fermo. L'importante nella cheto è che non superiamo quella montare dei carboidrati netti. L'importante per il nostro obiettivo, mantenimento, dimagrimento o crescita muscolare, è quello di assumere un adeguato apporto di proteine che non deve essere esagerato, che non deve essere piccolo e dobbiamo sapere che più si avanza con l'età più è facile perdere massa magra, quindi bisognerebbe aumentare un pochino e bisognerebbe introdurre l'allenamento. Ok? La restante parte sono i grassi. Come si utilizzano i grassi? Lo spiegheremo nella guida pratica che si riceve se si inserisce l'email, ma in genere i grassi vengono utilizzati in cottura, ghi, olio di cocco e burro giallo, ad esempio, vengono utilizzati in condimento, olio extravergine di oliva, quindi a crudo. Vengono utilizzati, si prendono grazie all'avocado, si prendono nel bulletproof coffee grazie all'olio MCT, che può essere utilizzato anche come condimento perché è in sapore e in odore. In questo modo si prendono i grassi. Attenzione perché il grasso è doppiamente calorico, non attenzione, nel senso il grasso è quel macronutriente che lo vedi poco nel piatto, ma che c'è, che fai presto andare su, ok? Quindi non spaventiamoci che non lo vediamo perché il grasso c'è se lo utilizziamo, ok? Poi dopo otteniamo il nostro metabolismo totale, in questo caso 3240, otteniamo in questo caso l'indice di massa grassa, l'indice di massa, quindi BMI, scusami, che nel mio caso è 24.9, che è un parametro che va sempre preso nelle pinze, soprattutto per una persona ad esempio come me, abbastanza muscolosa, perché più cresci con i muscoli non è vero che sei fuori forma, ma questo qua fa andare sul tuo peso e rapportato alla tua altezza ti dà un valore che è alto, che magari nella tabellina del BMI ti dice che sei sovrappeso, ma non è così, quindi è un parametro che è più utile ad una persona che non è in forma, se vogliamo dirlo, che comunque non ha muscoli, ok? E poi dopo ci dice quanti chilogrammi di massa magra abbiamo nel nostro corpo, vedete che io peso 77 chili, 69 chili sono di massa magra, che cos'è la massa magra? È tutto ciò che non è grasso, non sono solo i muscoli, ma sono i tessuti, i nervi, i legamenti, le ossa, tutto ciò che non è grasso, ok? Ottenuto il risultato, quello che vi consiglio di fare è fare un bello screenshot, così ce lo abbiamo lì salvato nel cellulare, e quello che consiglio anche di fare è scendere appena e andare ad inserire nome ed email nel box qui sotto perché? Perché qui se inserisci qua subito ti arriva la guida pratica ai carboidrati che dopo vi faccio vedere al volo, guida le proteine, guida i grassi, guida ovviamente ai nostri prodotti che ti consigliamo come utilizzarli all'interno di questa cosa qui, un menù ad esempio con delle chetoricette e tantissime altre cose, ok? Vi faccio vedere come sono fatte le guide, se ci riesco, questa ad esempio è la guida sui carboidrati, molto sintetica e pratica dritto al punto, per i carboidrati cosa serve sapere? Quanti carboidrati netti ci sono nell'alimento, quindi scendiamo, verdure sopra la terra, tutte le indicazioni e i consigli, verdure sotto la terra, la frutta, legumi, mais, equinoa, ok? E ci dice tutto quanto. Perché è utile? Perché è pratico? Ma perché è pratico? Perché ci serve subito, cosa vuol dire? Se io devo arrivare a 20 grammi di carboidrati netti nella mia giornata e so, ad esempio, che 100 grammi di broccoli hanno 6 grammi di carboidrati netti, so che se mangio 100 grammi di broccoli ho già mangiato 6 grammi di carboidrati netti, se nella mia giornata devo arrivare a 20, me ne rimangono 14, 20 totali meno 6 che ho appena mangiato, me ne rimangono 14. A questo serve questa tabella. Ed è sempre uguale, d'accordo? Non è che ogni giorno bisogna star lì come a contare le calorie. Una volta che so che la verdura mediamente sono 4-5 grammi di carboidrati netti per 100 grammi di prodotto, fine della storia, ho già imparato, d'accordo? Una volta che so che un uovo sono 7 grammi di proteine circa, se mangio 3 uova ho mangiato 21 grammi di proteine. Se nel mio pasto, che ne faccio 3, devo arrivare, ad esempio, non lo so, a 30 grammi di proteine, se con 3 uova sono arrivate a 21, ci metto qualcos'altro per arrivare circa a 30. Questo è l'obiettivo che è totalmente diverso da contare le calorie, è molto più semplice ed è molto più pratico. Perché se prendo ad esempio una scatoletta di tonno, c'è scritto in questa scatoletta di tonno ci sono tot grammi di proteine. Una volta che lo so, e poiché quando prendiamo una cosa al supermercato, spesso prendiamo sempre la stessa cosa. Una volta che imparo quella cosa lì, non me la scordo più, dalla volta dopo so già a memoria tutte le cose che devo fare per raggiungere la mia quota di proteine. Ok? Molto molto semplice. Tornando dove eravamo prima, sotto c'è spiegato come utilizzare il calcolatore, ci sono alcune indicazioni che ti fanno capire perché sono importanti o meno certi dati e perché vengono richiesti. Se scendiamo, troviamo il blog con tante guide di approfondimento. Qui dentro ci metterò anche il video più completo che esista sulla dieta chetogenica che uscirà la prossima settimana e se stai guardando questo video che il video è già uscito te lo lascio qui sopra, qui o qui non lo so, te lo lascio qui, te lo lascio in descrizione, altrimenti se non è ancora uscito aspetta la prossima settimana che uscirà e lo andrò a mettere anche dentro questa pagina in modo che sia una bella guida completa con tutto quello che c'è da sapere in modo pratico come piace a me sulla dieta chetogenica come stile di vita, ok? Quindi direi che ho detto tutto, vediamo se mi sono dimenticato qualcosa, perfetto, ho detto tutto, quindi questo è quello che c'è da sapere sul calcolatore, io mi auguro che possa esserti utile, di aiuto, mi raccomando, non serve per diventare dei fanatici, serve per avere un'indicazione perché certi numeri sono importanti per raggiungere il nostro obiettivo, magari ci rendiamo conto ad esempio che dobbiamo assumere ogni giorno 120 grammi di proteine ed è importante per quello che è il mio obiettivo, magari ci rendiamo conto che ne stiamo assumendo 60, ecco perché non raggiungiamo il nostro obiettivo, oppure ci rendiamo conto che ne stiamo assumendo 200 e quindi stiamo esagerando, stessa cosa per i carboidrati, i grassi ripeto secondo me sono la cosa più semplice che vanno a riempire il serbatoio, si utilizzano qui e là, non si vedono neanche nel piatto ed è un attimo che arriviamo all'importante che mangiamo le cose giuste a sazietà e se mangiamo alimenti di qualità, i nostri ormoni, fame e sazietà sono bilanciati, quindi interverranno nel momento più opportuno, quando ho fame mi diranno di mangiare, quando sono sazio mi diranno di smettere di mangiare, è così che funziona il nostro corpo, chiaramente se mangiamo tutti i giorni un sacco di carboidrati sbagliati, un sacco di zuccheri, abbiamo gli ormoni impazziti, quindi abbiamo sempre fame anche se in realtà, realmente a livello energetico non avremmo bisogno di mangiare, ok? Più tantissime altre cose che non so spiegare che non è questo punto, ok? Direi che ho finito, grazie per aver guardato questo video, mi raccomando fai un salto, utilizza il tuo calcolatore giusto per sapere quali sono i tuoi macronutrienti, se vorrai lasciare l'email per ricevere le guide, tanto meglio perché vedrai che ti saranno un sacco di aiuto se potrai scaricarle e metterle dove vuoi. Grazie infinite per il tuo tempo, noi come sempre ci vediamo nel prossimo video!